Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata del ciclo di Catechesi, Vizi e Virtù, dedicati, come sappiamo, a questo momento. Stiamo terminando il discorso sulle virtù cardinali e in particolare sulla temperanza. Dobbiamo immediatamente riprendere e procedere con sollecitudine, non con rapidità perché queste cose meritano un ascolto, una trattazione e una concentrazione evidentemente adeguata. Però anche con una certa sollecitudine per cui questa sera eviterei preamboli perché la puntata precedente è stata un'ampia introduzione appunto sulla virtù cardinale della temperanza. Entrerei pertanto direttamente nel merito cominciando ad andare un pochino dentro il cuore di questa virtù. Cominciamo anzitutto con l'elencare le nove parti integranti della virtù cardinale. Sono nove, sono tante. Ve l'avevo detto, insomma, tutte le virtù cardinali, quindi sono cardine delle porte, quindi bisogna poi andare a vedere come sono fatti i telai, quindi le maniglie, la porta stessa. Quindi nove parti integranti. Allora, sono l'astinenza e il digiuno, la sobrietà, la castità, la puricizia, la verginità, la continenza, la mansuetudine, la clemenza e la modestia, che come vedremo a sua volta è distinta in quattro parti. Quindi vedete che itinerario non indifferente. Andiamo a focalizzarle nel dettaglio, queste nuove parti. L'astinenza, di cui il digiuno è l'atto principale, è la virtù in base alla quale, per fede e per amore di Dio, ci si astiene dai cibi nella giusta misura, ovviamente tutelando in ogni caso la salute e i reali bisogni personali, anche in relazione alle esigenze con le persone con cui si convive. Specifico queste cose perché evitare che subito accadano guerre familiari, ecco perché si vadano a fare poi cose non adatte, non adeguate ad un contesto di vita, per esempio, familiare. Ora, perché allontanarsi dai cibi nella giusta misura? Perché trattandosi di cose molto molto materiali, ordinariamente, questo è quanto hanno sempre insegnato tutti i maestri di spirito, qui io sto seguendo Sottomaso d'Aquino, quindi è una sintesi di quello che si trova nelle questioni dedicate alla virtù cardinale della temperanza. Tutto quello che dico segue l'insegnamento di Sottomaso nella Somma Teologia, su queste virtù. Quindi, chiusa parentesi, quindi secondo i maestri di spirito, i cibi ordinariamente allontanano l'uomo dai beni più elevati, cioè dai beni spirituali, lo distolgono dall'attenzione alla vita spirituale e lo distolgono dalla vita interiore e diventano tanto più esigenti quanto più vengono assecondati. Non esiste nessuno, cioè non esisteva perché adesso, col clima che ci sta adesso in giro, ma un tempo tutti quanti gli istituti di vita religiosa avevano, come dire, delle norme molto rigorose nel cibo, nell'alimentazione, digiuni e astinenze perpetue, cioè evidentemente non nel senso che non mangiavano niente, ma c'erano delle regole variabili nei vari periodi dell'anno, in alcuni momenti più intensi, altri meno, altri meno, ma comunque questa materia era sotto strettissima giurisdizione, sotto strettissimo controllo. Non si mangia a casaccio, quindi non si siede al tavolo e mi ha mangiuto quello che mi passa per la testa. No, non si fa così. Ora, in questo l'importanza della temperanza è davvero fondamentale, cioè guardiamo un attimo un pochino, guardiamoci anche un pochino in giro. Questa virtù, così come il vizio opposto della gola, come vedremo, non sono tanto ben considerati oggi, ma non va bene, o meglio a volte sembra che siano, come dire, oggetto di attenzione solo da parte di chi deve per forza di cose, quindi per ragioni legate alla particolare professione che fa, pensiamo un attore, pensiamo uno sportivo, un personaggio del mondo dello spettacolo, deve essere una silhouette, e quindi si sottopone a regimi alimentari pazzeschi, insomma, proibitivi, come dire, degni di per sé di una sceta. Ecco, ma fuori di questi casi non c'è un'attenzione a tale tematica. Vi dico per la verità, neanche spesso e volentieri tra le anime cosiddette, chiamiamole, buone o devote. Invece l'importanza della temperanza è fondamentale, perché tutti i beni sensibili, in particolare quelli appunto legati al cibo, all'alimentazione, hanno in sé tutti lo stesso principio generale, che è più noto, diciamo, è più facilmente percepibile, guardando per esempio le sostanze in qualche modo assimilabili in senso ampio alle droghe, pensiamo, gli stupefacenti, le sigarette, che ne so, i caffè. Quindi cosa hanno in comune queste cose, chiaramente che stanno su un livello evidentemente di pericolosità, di gravità, di istinto, no? Non sto dicendo che un caffè è come una dose di cocaina, evidentemente, no? Ecco, però tutte queste cose sono accomunate, hanno un minimo comune denominatore che è la tendenza all'assoefazione, quindi ad adeguarmi a un certo standard, pensiamo anche alle bevande alcoliche, no? E il forte impulso nell'aumentare la dose, cioè facilmente io, cioè il mio organismo esige, come dire, di non perdere lo standard a cui si è arrivato, ma preferisce andare gradualmente ad aumentare. Ecco che poi si può diventare obesi, alcolizzati, cadere vittime del tabaggismo o della tossicodipendenza. O qualcuno si prende 20 caffè al giorno, insomma, no? Ora, la stessa identica cosa accade per i piaceri venerei, come abbiamo visto a suo tempo parlando della lussuria, no? Quindi, per cui, senza il freno, la stessa cosa capita, se si vuole rimanere sempre nell'ambito sensibile, per quello che attiene al senso della vista, no? Pensiamo agli iperabusi di televisione, no? Pensiamo ai ragazzini che stanno, che ne so, le giornate intere davanti ai videogiochi, problema grosso questo, eh? Quindi, gli occhi, dice la Sacra Scrittura, non si saziano mai di guardare e di vedere cose sempre nuove, sempre più intriganti, cioè il minimo comune denominatore dei piaceri sensibili, cioè di quelli che cadono sotto i sensi, è questo, che sono inappagabili e quindi non è che tu dici, ah, finalmente non mi sono visto un bel film, ma questo mi ha proprio piaciuto, ma non mi vedo più nient'altro come tutta la vita. Scusatemi l'esempio un pochino sciocco e grossolano, no? No, si è visto proprio un bel film e speriamo di vedere un altro meglio ancora. D'accordo? Per dire. Quindi, senza il freno del digiuno e dell'astinenza, che evidentemente queste virtù classiche avevano ben poco di su cui esercitarsi, salvo appunto i cibi e le bevande, ma oggi no. Oggi sono i nuovi beni che creano beni o piaceri o ambiti che creano pericolose e assofazioni, no? Pensiamo alla televisione, pensiamo alla musica, pensiamo a internet, pensiamo tutto l'ambito dei social network, i cinema, i teatri. Io racconto, recentemente mi è capitato, in maniera casuale, perché non è un social che uso, perché non mi interessa e non credo che lo userò, di fare qualche giro, non giri santi, sul social che adesso spopola tre ragazzine e tre giovani, che è TikTok. Io i capelli non ce li ho più, ma sono stati dieci minuti, come dire, per andare, l'ho fatto proprio, come dire, da sacerdote, nel senso, dico, fai una bella preghiera, fai un attimo, un attimo di diffusione, cioè, speriamo che non arrivino danni, però fammi dare un'occhiata per capire che cosa è. Allucinante, allucinante. Siamo molto oltre Instagram, molto oltre Instagram, per quanto mi riguarda, no? Proprio, non solo falò delle vanità allo stato puro, ma sicuramente i ragazzini non si rendono conto, ma proprio, cioè, io non, non, mi sono chiesto, ma gli effetti che nel tempo produrranno questi video, questi, questi modi di esporsi in questo modo, insomma, così, così diretto, così, molte volte anche spinto, diciamo così, che effetti produrranno nel corso del tempo? A me, io sinceramente, mi sono un po'... Sapete quante volte di questi tempi bisogna dire, signore mio, che ci facciamo? Ci preghiamo, ti offriamo qualche sacrificio, sapete? Non ci si fa mai il callo a queste cose, ma vedete, oggi è veramente difficile campare nell'attuale contesto sociale e, per certi aspetti, anche ecclesiale, perché ci si trova continuamente, dinanzi a problematiche, situazioni, che sono, cioè, non sono alla nostra portata, quindi non ci si può... Che ci fai? Il vento, che ci fai? Che io, cioè, che qua... Per quattro cose che adesso dico in un intervento di questo genere, che se chiude TikTok, non esiste, no? Non è una cosa a cui... Non sono cose a cui si può porre rimedio. L'unica cosa che si può fare, questo è ormai, ormai è la mia bussola perpetua, è, come dire, aiutare qualche anima a salvarsi un po'. Io ormai ho capito che, nell'attuale contesto storico, culturale, sociale, politico, ecclesiale, chiamiamolo come vogliamo. L'unica cosa, senza la data numero uno, è cercare di camminare sulla retta via, senza lasciarsi sommergere da un mare di fango di cui siamo circondati e che ci cade addosso da tutte le parti. E secondo, cercare di aiutare qualcuno a non caderci a sua volta o, se ci sta dentro, dargli una mano per uscirne fuori. Più di questo, almeno un povero prete come me non può fare. Vabbè, certamente, molto si può fare nella preghiera, nella mortificazione e, per chi ci crede, la conosce, anche imparando a operare e vivere un po' nella divina volontà. Ma, da un punto di vista pratico, operativo, soluzione dei problemi, avete una gente che mi chiama e dico, guarda, che ci fanno? Il vento ci facciamo, che ci facciamo? Ecco, allora, quattro sono gli scopi principali del digiuno, che è l'atto più eccellente dell'astinenza. Reprimere le concupiscenze della carne, elevare l'anima a contemplare le realtà più sublimi, espiare e riparare i peccati, ottenere grazie dal cielo. Pensate quant'è importante questo gesto. Oggi caduto, parecchie indesitudine, lamentava già San Giovanni Paolo II, grazie a Dio, come dire, quantomeno riportato alla pubblica attenzione, grazie a notissime apparizioni mariane, a mio avviso da prendere in seria considerazione, che sono quelle di Meggiugorio, dove la Madonna ha proprio insegnato prima, gradualmente, evidentemente, non dall'oggi al domani, ma poi non soltanto ai ragazzi, ma anche al mondo intero, a riprendere questa importantissima pratica ascetica, ricordando che nel Vangelo Gesù ci ricorda che certi demoni si vincono solo con la preghiera e il digiuno. Quindi questo aspetto, questa virtù che stiamo considerando, guardate che, l'ho detto la volta scorsa, è la più piccola, è la cenerentola, la temperanza, perché è l'ultima, è l'ultima anche in ordine di importanza, perché abbiamo fede, speranza e carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, ma, come dice Gesù nel Vangelo, gli ultimi saranno i primi. Sapete che San Girolamo sentenziava senza cerere e bacco, venere si raffredda. Sapete che cerere era la dea della tavola, bacco, lo sanno tutti, era il dio del vino e venere era la dea dei piaceri sensuali. E quindi, questo vuol dire che il digiuno serve a riprimere le concupiscenze della carne, quindi senza cerere e bacco, se tu impari a non mangiare e a non bere, venere si raffredda, ti passano i bollenti spiriti. Questa è San Girolamo, non è mia la frase, San Girolamo citato da San Tommaso, evidentemente nella Somma Teologia. Ora, per quanto riguarda le forme del digiuno, se voglio fare il digiuno, che digiuno facciamo? Quelle più comuni e attestate nella storia, nella tradizione antica e recente della Chiesa, sono fondamentalmente... Io le elencherei in ordine di crescente impegnatività, quindi da quella meno impegnativa, mi si passa il termine, a quella più impegnativa. Il digiuno cosiddetto canonico, quello che è attualmente obbligatorio, veramente è rimasto ridotto ai minimi termini nella disciplina attuale della Chiesa, solo due volte l'anno, il mercoledì delle cene e del venerdì santo, e che peraltro obbliga solo i battezzati che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 60 anni e peraltro non siano in condizioni di salute precarie. Quindi, pensiamo, un fedele che volesse attenersi semplicemente alla legge della Chiesa, basta che fa il digiuno due volte l'anno. E attenzione, il digiuno canonico, che cosa è il digiuno canonico? Non che uno mangia niente, ma è la riduzione della colazione e di uno dei pasti principali, quindi si riducono un po'. E l'altro pasto, preferibilmente si salta, oppure si fa pane e acqua, oppure si riduce proprio ai minimi termini. Il digiuno canonico è così, quindi è proprio un sacrificio per cui uno un po' di fame la sente, ma non è... Molta gente pensa al digiuno e lo dirà non mangiare niente. No! Ecco, quindi il digiuno canonico è questo. Diciamo che, a mio avviso, il modo migliore per farlo è ridurre colazione e uno dei pasti principali e l'altro ometterlo, insomma, per fare almeno un piccolo sacrificio, sentire un pochino di... Il digiuno serve a farti provare un pochino la fame, insomma, se non lo senti per niente... Ecco, va bene. Ora, dal digiuno canonico si può essere dispensati, innanzitutto per giusta causa, come da altre leggi ecclesiastiche, no? Tipo il digiuno caristico. Da chi? Dal parroco, nella cui giurisdizione ci si trova attualmente. Tenete sempre presente che il parroco competente è quello dove si dimora stabilmente in un certo momento, o anche occasionalmente, cioè se una persona va, che ne so, va in vacanza adesso, va a fare Pasqua a Cortina d'Ampezzo, d'accordo? Il venerdì santo, se non sente bene, vuole la dispensa dal digiuno, va dal parroco di Cortina d'Ampezzo e si fa dare la dispensa dal digiuno, no? Perché conta il territorio dove uno si trova, adesso non facciamo troppe lezioni di diritto canonico, se no diventa troppo complicato, no? Ora, evidentemente, fuori di questi casi, il digiuno è un atto volontario e quindi può essere compiuto da un fedele in questa forma, anche in altri momenti circostanti, ricordando che i giorni tradizionalmente dedicati alla penitenza, secondo antichissima tradizione, sono attiruto il sesto giorno della settimana, che è il venerdì, il ricordo della morte di nostro Signore, e poi il quarto, che è il mercoledì, che è il giorno di penitenza, perché in questo giorno si ricorda l'atto che Giuda fece di andare a contrattare la vendita di Gesù, quindi l'accordarsi per i 30 denari. Ora, dopo il digiuno pancanonico c'è un pochino quello più impegnativo, quello un pochino più noto sempre per le apparizioni a cui prima ho fatto cenno, che è il digiuno a pane e acqua. Certamente più impegnativo del primo e consiste nel privarsi, nel cibarsi per 24 ore da mezzanotte a mezzanotte di solo pane e acqua, questo per quanto riguarda il cibo e la bevanda, quindi niente vino, niente coca cola, niente bevande alcoliche o analcoliche e pane. Evidentemente, a quanto pare, per evitare insomma di essere troppo estremisti, anche se su questa materia non c'è un accordo universale, però credo che qualche caffè zuccherato, qualche magari un pochino di tè, specialmente per chi ha dei doveri di Stato, possa considerarsi consentito, insomma, nel senso che non interrompe o non guasta il digiuno. E poi la terza forma di digiuno è il digiuno rigoroso. Il digiuno rigoroso, qualcuno lo chiama anche il digiuno assoluto, consiste nel limitarsi per 24 ore ad assumere solo acqua e anche qui eventualmente qualche bevanda tipo caffè o tè zuccherato, semplicemente per tenersi un pochino in forma. È chiaro che questo digiuno richiede oltre che un ottimo stato di salute, anche una condizione fisica che consenta di sopportarlo. È sempre importante quando si fanno i digiuni, certamente adesso non è che si può esagerare, cioè se è vero che appare la Madonna Meggiugorie, siamo liberi di crederci o no, e se la Madonna Meggiugorie chiede ordinariamente di digiunare due volte a settimana, significa che due digiuni a settimana non ti mandano al creatore. Quindi noi oggi siamo proprio disabituati con la penitenza. È chiaro che i gesti ascetici vanno sempre fatti non in maniera indiscreta, dicevano i maestri di spirito, quindi utilizzando, però senza neanche troppo esagerare, insomma, con considerazioni di prudenza umana, se no aspettiamo di essere perfettissimi non faremo mai niente, insomma, no? Quindi granosalis, poi magari chi c'ha il confessore, chi c'ha il direttore spirituale, si può parlare insomma di queste cose, no? Ecco, però insomma anche qui entro certi 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 limiti, insomma, no? Perché se uno vuole fare un digiuno, ordinariamente si può fare, no? Ora, a fine all'astinenza, capiamo per esempio che l'astinenza propriamente è astinenza anche lì per chiudere il discorso dalle carni e dei cibi grassi, no? Anche qui l'astinenza che è attenzione che rimane obbligatoria per tutti i venerdì dell'anno, solo che in Italia la conferenza episcopale ha stabilito che venerdì non di quaresima l'astinenza dalla carne che è un piccolo segno penitenziale con cui ogni fedele adempia il dovere di ricordarsi del fatto che venerdì Gesù è morto per noi sarebbe sostituibile, è sostituibile, non sarebbe, da un altro gesto penitenziale a scelta del fedele. Io personalmente mi sono sempre permesso, anche se certamente questa è materia libera, di consigliare ai fedeli che sarebbe meglio conservare la tradizione della carne, a parte che per la sua antichissima origine, ma perché è molto più difficile l'esperienza pastorale lo insegna, cioè se uno dice ah beh non mangio la carne e poi faccio un'altra cosa, diciamo facciamo l'ottanta per cento dei casi, ma voglio tenermi molto largo, 80 per non dire il 90, forse anche di più, va a finire che poi non si fa niente, d'accordo, perché è sempre meglio su queste cose avere magari poco, però stare a quel poco, quindi l'astinenza dalle carne di venerdì e il digiuno almeno il mercoledì di recene di venerdì santo, il digiuno canonico è obbligatorio, tutto il resto è un di più, per esempio siamo ancora nel mese di luglio e ho fatto poco tempo fa una conferenza sullo scapolare del Carmine, sappiate che la Madonna per concedere il privilegio sabatino chiede l'astinenza dalla carne, il privilegio sabatino vuol dire uscire dal purgatorio il primo sabato dopo la morte, chiede l'astinenza mercoledì, venerdì e sabato, quindi chi vuole ottenere il privilegio sabatino deve fare questa mortificazione. Ci sono stati istituti religiosi in passato che per esempio chiedevano anche l'astinenza perpetua dalla carne ai suoi membri, quindi non lo mangiavano mai in nessun periodo dell'anno, quindi la carne non è che la carne c'è qualcosa di male, no? Per capire anche il significato ascetico dei gesti, che la carne è un alimento sostanzioso, quindi quando uno mangia la carne c'ha quel senso di sazietà e di pienezza che non ha con altri alimenti, ecco perché qui non è che fare il digiuno all'astinenza vuol dire morirsi di fame, perché noi non possiamo stare senza mangiare sul pianeta Terra, ma è appunto quella mortificazione del sentire sempre un po' di fame e anche qui attenzione volendo applicare la temperanza in senso generale che dobbiamo farlo non necessariamente rivolgendosi agli esperti in materia, se uno è capace di autogestirsi anche se non è semplice lo faccia, ma una cosa è certa, cioè la nostra alimentazione deve essere disciplinata non per motivi estetici ma per motivi ascetici io non posso almeno non sempre sedermi in maniera sregolata mangio tutto quello che mi passa davanti fino a quando non avverto la sazietà questa non è virtù cioè i maestri di spirito raccomandavano sempre che stiamo dentro la virtù cardinale della temperanza ben esercitata quando alzandoci da tavola non ci sentiamo perfettamente sazi quindi qualche altra cosa ce la pure mangeremmo non sta a morire fame però rinuncio per amore del signore per amore appunto della di questa virtù e per conservare sempre come dire l'organismo sano ma al tempo stesso leggero e non impacciato nella vita dello spirito provate per esempio farvi una trippata tanto per usare un termine romano e dopo la trippata andate a fare tre ore di veglia in chiesa vedete come state sicuramente va a dormire cento per cento d'accordo oppure non si riesce a pregare ecco per pregare bisogna non dico avere la panza vuota ma non troppo piena bene fino all'astinenza e la virtù della sobrietà la sobrietà mentre l'astinenza e il digiuno regolano i cibi la sobrietà regola il vino e tutte le altre bevande inebrianti qui qui il discorso è un pochino più delicato perché sappiamo che con il vino le bevande inebrianti basta un minimo eccesso in esse che si offusca da subito oppure si nei casi più gravi quando uno s'ubriaca si toglie l'uso della ragione mentre un uso moderato soprattutto del vino per la verità però ci sono anche altre bevande tipo il cognac tipo certi amari di erbe che fanno anche i santi monaci nei monasteri che utilizzate in quantità evidentemente molto ridotte possono far bene all'organismo quindi giovare alla salute San Paolo nella sua lettera a Timoteo nella prima a Timoteo al capitolo 5 raccomanda a Timoteo che evidentemente aveva uno spirito di profonda penitenza di non bere solo acqua sapete che bere solo acqua è una mortificazione che uno può scegliere di fare qualche giorno che ne so per certi periodi dell'anno della settimana che ne so bevo soltanto l'acqua quindi mi astengo dalle bevande alcoliche oppure mi astengo dalle bevande alcoliche e dalle altre bevande una cosa lasciata alla nostra libertà ecco però a Timoteo San Paolo ha detto no no non ti astene devi bere un pochino per ragioni di salute la famosa regola di San Benedetto la Norcia dava anche la misura di vino consentita ai monaci nei pasti ai monaci è consentito quello che si chiamava nel tempo un quartino quindi un quarto di litro quindi 25cc cioè di fatto due bicchieri normali un pochino scarsi se uno ha i bicchieri belli grandi quelli da 200 siamo poco più di un bicchiere ma sta nella regola capitolo 40 numero 3 se qualcuno vuole andare a controllare la regola di San Benedetto col vino ora su questa materia certamente si possono fare tanti fioretti quindi tanti esercizi anche se ordinariamente la sobrietà esige soltanto la moderazione nel loro uso cioè non è proibito per esempio per chi è abituato fare un pochino di uso moderato di un pochino di vino a tutti quanti i pasti non c'è nessun problema se uno vuole ruffire il sacrificio di astenersene qualche volta può farlo ma la sobrietà richiede la moderazione in tutte quante queste cose quando sentiamo parlare di temperanza significa moderazione quindi niente eccessi su queste cose già gli eccessi sono sempre da evitare ma poi nei beni sensibili sono proprio da bandire San Tommaso afferma che l'uso del vino diventa illecito per quattro motivi anzitutto quando è assunto senza la dovuta moderazione e poi quando dovesse in generale scandalo negli altri se qualcuno si scandalizza che magari si usa un pochino di vito sapete che San Paolo da questa regola generale cioè di astenersi nella prima lettera di Corinzi nel capitolo 8 da qualunque cosa anche lecita per amore delle anime deboli che hanno lo scandalo facile perché certo che non c'è niente di male però se quell'anima è debole c'è lo scandalo facile e uno fa un sacrificio fa una rinuncia anche una cosa che sarebbe illecita che non c'è niente di male per impedire che quel poverino ne traga scandalo è anche grave l'uso quando si fosse fatto voto di non berlo oppure quando si avesse la tendenza naturale ad ubriacarsi facilmente ci sono persone che basta un bicchiere di vino che già cominciano a sentire la testa per aria mal di testa diventano tutti rossi è quello che poi sapete che il nostro signore a quella persona sta chiedendo anche se gli dovesse piacere di astenersi un po' perché non si può andare oltre ecco cioè noi capiamo che abbiamo esagerato con l'alco appena percepiamo qualche minima cosa quindi un po' di mal di testa un po' di senso di calore un po' di senso di intontimento vuol dire che siamo andati oltre i limiti imposti dalla virtù della sobrietà ecco come tutti i beni leciti evidentemente è sempre possibile lo ribadiamo a stenersi per ragioni ascetiche personali per ragioni di desiderio di maggiore perfezione voler fare penitenza per qualche motivazione eccetera no ok evidentemente o certamente dentro prima di passare oltre dentro l'ambito della dell'astinenza del digione della sobrietà evidentemente risordi evidentemente stanno anche tutti quanti quei diciamo così quei nuovi quelle nuove forme chiamiamole insomma di di piacere legate al senso in senso ampio del gusto che sanno ai limiti sappiamo che sostanze stupefacenti droghe leggere per quanto riguarda queste cose siamo sempre nell'ambito del peccato grave anche nel caso delle droghe leggere a prescindere dalla frequenza e dalla quantità con cui siano assunti il catechismo della chiesa cattolica nel 2290 afferma che la virtù della temperanza dispone ad evitare ogni sorta di eccessi l'abuso dei cibi dell'alcol del tabacco e dei medicinali ora la dizione di tabacco per esempio è un pochino generica perché il tabacco ci sono vari usi che si può fare col tabacco per esempio c'è il tabacco che si soltanto odora come penso che lo sappiate oppure c'è un tabacco che si fuma con la pipa o con i sigari modalità queste ultime che per esempio sono meno invasive nel senso che non rischiano di compromettere la salute in maniera rilevante così come il fumo da sigarette quindi questo per dire che il catechismo della chiesa cattolica genericamente parla di tabacco il tabacco da odore è proprio veramente una cosa che a quanto ne so non sono espertissimi in materia non ha nessuna controindicazione per la salute quindi si può tranquillamente definire un piacere lecito come tutti i piacere leciti non esagerare ma non ha controindicazioni la pipa se uno non aspira il fumo dicono gli esperti che la pipa e il sigaro possono soltanto provocare oltre insomma a fenomeni poco incisivi insomma come un certo annerimento dei denti qualcuno dice che possono provocare qualche tumore qualche polipo alla gola io non sono un espertissimo in merito invece il fumo da sigaretta sappiamo che ha degli effetti abbastanza seria tanto è vero che anche nei pacchetti di sigaretta adesso ci stanno come dire i cartelli terroristici che inducono a terrorizzare le persone personalmente io ritengo che sul fumo da sigaretta andrebbe fatta una riflessione un pochino più approfondita proprio dal punto di vista morale perché noi abbiamo davanti a Dio il dovere grave questo ricordiamocelo bene perché questo è anche il fondamento per esempio della temperanza dai cibi noi abbiamo davanti a Dio il dovere grave di custodire bene lo stato della nostra salute non siamo salutisti quindi non è che siamo pazzi fissati maniaci insomma che che hanno come dire l'idolatria della salute del corpo questo lo capiamo che non è così però noi non possiamo nemmeno per nessun motivo e questo è il principio che specialmente di questi tempi ha moltissime aree di applicazioni e deve essere chiaro noi abbiamo il dovere di tutelare il benessere e lo stato di salute del nostro corpo perché noi abbiamo il dovere davanti a Dio di rimanere su pianeta Terra esattamente tanto quanto Dio ha disposto che noi ci restiamo né un minuto di più né un minuto di meno è chiaro che tutti quanti i comportamenti che mettono a repentaglio questa cosa per esempio se io guido con un pazzo furioso è chiaro che metto a repentaglio la mia vita se mi vado a schiantare contro un palo non è il posto di volontà di Dio che morissi in incidente ma quale è la volontà di Dio è la volontà tua probabilmente davanti a Dio dovrà rispondere del fatto che sei campato 30 anni in meno perché ti sei andato a schiantare contro un palo se una persona muore a 60 anni di tumore polmoni perché si è fumato un autotelano di sigarette siamo sicuri che quella morte è volontà di Dio e che il nostro Signore non gli vada a dire guarda che ci mancavano 15 anni al tempo che tu sei stato sul pianeta Terra perché te sei di fatto suicidato o se per i danni connessi al fumo io ho conosciuto situazioni di questo genere ischemie ictus problemi di circolazione o per i fenomeni legati al sovrappeso evidentemente cospicuo problemi al cuore morti premature per patologie legate al cuore quindi noi queste cose qui sono peccati non possiamo farle perché la vita come ben sappiamo appartiene a Dio nel suo origine e nella sua fine questo non vuol dire soltanto che non si può fare l'aborto e l'eutanasia non è solo questo cioè significa custodire la salute quindi significa non porre in essere dei comportamenti ripeto senza esagerare che mettano a repentaglio certo la nostra salute queste sono cose moralmente rilevanti ecco per cui il generico tabacco sarebbe meglio specificarlo un po' perché personalmente cioè nella libertà della riflessione consentita dalla genericità del riferimento del catechismo io sul fumo da sigarette che si possa come dire fare lecitamenti cioè basta che sono moderato io c'ho qualche dubbio io c'ho qualche dubbio quindi qualche dubbio è una cosa che andrebbe approfondita ulteriormente a mio modesto parere passiamo ora ad alcune virtù che sono parti integranti della temperanza che regolano i piaceri venerei il cui vizio opposto come è noto l'abbiamo visto a suo tempo era lussuria e si tratta quindi delle distinte e complementari virtù magari potremmo concludere questa sera con questa disanimina adesso vediamo un pochino distinte e complementari virtù che sono la castità che sono la castità la pudicizia e la verginità sono tre virtù distinte non sono sinonimi cioè essere casti non significa essere vergini essere pudici non significa essere casti sono tre virtù distinte che hanno i loro atti propri ora veramente ce ne sarebbe anche una guarda ma San Tommaso la tratta come virtù distinta sarebbe la continenza perché la continenza come dice il termine stesso è la capacità di dominarsi di trattenersi solo che San Tommaso giustamente afferma che questa virtù non è preposta soltanto a dominare le intemperanze della carne della nostra area concupiscibile come si dice tecnicamente ma anche le intemperanze dell'ira perché uno può non trattenersi non dominarsi sia perché si abbandona ai piaceri bassi ma sia anche perché si abbandona agli strali dell'ira urla si adira facilmente offende spara eccetera no? Allora quindi la consideriamo per ultima quindi se si considera anche la continenza ce ne abbiamo quattro di virtù che devono fare la guardia a tutto quello che comporta la regolazione dei piaceri venerei allora il termine castità deriva da castigo pensiamo qualcuno oggi pensa che Dio non manda nessun castigo il termine castità deriva da castigo santommaso lo dice non lo dico io e castigo etimologicamente figuriamoci se Dio non fa questa cosa significa proprio castum agere castitas viene da castum ecco castigare viene da castum agere cioè fare casto fare puro rendere casto ora la la castità in effetti come dire svolge una sorta di funzione di castigo nel senso in che senso esercita un lavoro di controllo e di purificazione in vista della corretta ordinazione dei piaceri venerei quindi che devono essere sottomessi alla retta ragione fa un po' l'operazione analoga a quella che farebbe un padre con un bambino capriccioso un bambino capriccioso deve essere regolato deve essere moderato ora questo perché perché i piaceri venerei sono i più intensi e violenti più ancora dell'ira e quando si godono soprattutto se in modo disordinato sconsiderato ed eccessivo sempre santo maso per questi rilievi fanno perdere all'uomo completamente il dominio della patronanza di sé e dei suoi atti avvicinandoli avvicinando l'uomo alla condizione degli animali che sono completamente mossi e dominati dai loro istinti accennavo prima che generalmente si identifica la castità con la vergina o con la continenza questo è sbagliato perché la castità consiste volendo definirla nell'esercizio ordinato della sessualità attenzione in relazione al proprio stato di vita domanda i coniugi cristiani devono essere casti certo tanto è vero che c'è un'enciclica di un papa Pio XI enciclica del 1931 che si chiama casti connubi in latino è genitivo del casto connubio c'è la castità coniugale e come se c'è parleremo castità coniugale che però è diversa dalla verginità che è un altro stato di vita perché con verginità come vedremo si intende non semplicemente il fatto che uno è materialmente vergine ma la scelta di vita fatta e quindi poi formalizzata attraverso gesti privati o pubblici di mantenersi vergini per tutta la vita e quindi è chiaro che la castità del vergine sarà diversa dalla castità dello sposato o poi c'è anche la continenza la continenza che è il modo con cui esercita la castità quindi trattenendosi dalla vita sessuale attiva è chi non è nello stato di vita virginale né c'è intenzione di abbracciarlo ma non ha ancora contratto un valido sacramento del matrimonio perché fuori del sacramento del matrimonio qui e rimando tutte quante le catechesi fatte da poco sul peccato originale dove si è approfondito bene anche questo aspetto fuori del sacramento del matrimonio questo dobbiamo sempre tenerlo presente ogni tanto lo faccio di passare per un battezzato quindi per un figlio di Dio per una persona che ha avuto illuminata dalla rivelazione la volontà di Dio su questo aspetto la sessualità è come se non esistesse perché fuori del sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna peraltro non si può compiere lecitamente nessun atto sessuale esplicito mi si pertono insomma il linguaggio un po' così ma è bene cercare di essere chiare e di farsi capire ora tutto ciò premesso diciamo subito che esistono tre tipi di castità anzitutto la castità diciamo così comune che consiste nella doverosa rinuncia che è obbligatoria per tutti i cristiani a qualunque stato di vita appartengono attenzione a tutte le forme illecite di ricerca del piacere sessuale cioè per esempio gli atti impuri solitari solitari questi sono sempre intrinsecamente gravemente disordinati sempre dovunque dappertutto comunque vengano praticati si chiamano anche li chiama così il catechismo della chiesa cattolica per essere un pochino più chiari atti masturbatori che sono sempre gravi anche quando non sono commessi in modo solitario perché possono anche essere praticati sugli altri quindi no tutte le forme di esercizio come spiega Sant'Omaso contro natura della sessualità quali attenzione io nomino le specie perché queste specie certamente caratterizzano ordinariamente i rapporti omosessuali ma possono tranquillamente essere trasferite nei rapporti eterosessuali all'interno dei quali sono evidentemente gravemente disordinate quali sono la sodomia spero che si capisca perché definire un po' meglio la sodomia a livello di linguaggio si scade un po' tutti quanti sanno che peccati venivano commessi a sodoma insomma basta leggere il libro della genesi no San Paolo anche nel primo capitolo della lettera dei romani con un linguaggio un pochino sobrio ecco lascia un pochino intendere e così come chiamiamola così l'oralità os oris in latino significa bocca quindi si capisce no? che significa l'oralità quindi la sessualità praticata attraverso la bocca ecco quindi questi sono sempre atti intrinsecamente gravemente disordinati e ignominiosi sempre sto parlando di cazzità comune perché perché la chiamo cazzità comune perché questi atti faremo meglio a dimenticarci che esistono d'accordo perché non sono mai reciti quindi uno meno ci pensa e meglio è non ci potranno fare mai né da casti né da sposati né da centri mai e questo bisogna ripeterlo oggi perché nonostante che ci siano tante sirene contrarie attenzione che queste cose cioè nonostante ripeto cose allucinanti che si vedono in giro purtroppo adesso sono sui giornali cioè io non voglio neanche lontanamente pensare cosa possa pensare il Signore di alcune cose che si vedono in giro d'accordo praticate anche dentro qualche chiesa ognuno allora le autorità competenti evidentemente hanno il dovere grave di intervenire se non lo fanno ognuno risponde a Dio dei peccati che fa chi si rende protagonista di queste cose ricordi che dovrà presentarsi davanti a Dio per rendere conto delle proprie azioni punto e non dico altro per non andarmi ad avvelenare troppo il cuore no ma su questi argomenti non c'è margine di dialogo ora io ho sempre detto lo dico in continuazione cioè noi abbiamo degli ambiti leciti di esercizi della nostra libertà grazie a Dio quando mi fanno a me come se sono una domanda su una cosa che non è un tema morale io non do mai la risposta su una cosa opinabile per esempio prima abbiamo parlato quanti digiuni devo fare due volte all'anno li devi fare a meno che non c'è la dispensa del parroco il resto questo lo vedi tu fai una bella preghiera ci pensi e lo decidi se vuoi chiedere consiglio al confessore al padre spirituale che consiglia a me che non ti ho mai visto che ti posso consigliare ti posso consigliare al massimo fai quello che la madonna avrebbe detto dico avrebbe perché devo essere corretto nei confronti di eventuali pronunciamenti della chiesa a prescindere da quello che penso io ci si può credere ad ogni apparizione fino a quando non venga condannata quindi se ci credi e credi che la madonna dia un'indicazione del genere sicuramente la madonna non dà un'indicazione disordinata quindi se rimani fino a quel punto va bene però sulle cose che non sono vincolanti nessuno di noi può dare leggi oltre a quelli che ha dato nostro signore ma se una persona viene a dire ma dentro il matrimonio ma si può fare quest'altra cosa un pochino così non è che gli dico agisci secondo coscienza e pregare sopra la risposta è no e io da ministro di Dio devo rispondere no perché io da ministro di Dio devo come dire promulgare e annunciare la legge di Dio è chiaro che se tu vuoi farlo cioè Dio ci lascia l'arbitrio non ci dà l'autorizzazione di peccare ma tu devi sapere che quella cosa è peccato e che non è lecita mai per nessun motivo e guai e dico guai e dico straguai e dico mille volte guai a qualunque ministro di Dio si azzardirà anche lontanamente di dire altro rispetto a questo è importantissimo per un ministro di Dio che distingua gli ambiti in cui c'è libertà di coscienza da quelli in cui libertà di coscienza non c'è perché non c'è in certi ambiti io nel tempo ho scoperto quanto è bello quanto è importante imparare ad agire secondo coscienza ma su questo ogni tanto bisogna fare attenzione perché c'è chi afferma essere questioni personali di coscienza cose che non sono affatto questioni personali di coscienza perché se c'è una cosa in cui c'è un'indicazione o sono coinvolti altri tipi di valori non è tanto di coscienza perché quando ci sta in causa la legge di Dio la coscienza ha il dovere di uniformarsi e di conformarsi alla legge di Dio e se è erronea deve cedere le sue convinzioni rispetto a quello che la legge di Dio le impone o le proibisce questo sia chiaro questo qui evidentemente la castità comune proibisce anche tutte quante quelle forme di perversione e depravazione che non mi va neanche di nominare tutte quante le forme di depravazione e perversione inimmaginabili che possono esistere su questa materia San Paolo dice nelle sue lezze tanto per dire qualcosa orge e cose del genere non serve specificare viene poi la seconda forma di castità che è la vedovanza ossia io mi sono sposato cosa dice San Paolo se muore tuo marito ti puoi risposare sì ti puoi risposare e se rinunci a contrarre un nuovo matrimonio cioè a fare una cosa di per sé lecita fai meglio è un consiglio non è un obbligo se tu questa cosa la fai davanti a Dio quindi avendo come motivazione per esempio serbare per l'eternità l'amore sponsale rinunciare in spirito di penitenza e fedeltà al primo matrimonio a godere ulteriormente di altri piaceni veneri leciti perché tu ti risposi in chiesa e puoi rivivere un'attività sessuale tranquilla senza peccare ma uno ci può se vuole rinunciare è la seconda forma di castità poi c'è la castità coniugale argomento di cui oggi si parla poco ma con gravissimo danno dei sede fedeli perché la castità coniugale ordina la sessualità sponsale che evidentemente all'interno del matrimonio la sessualità è lecita e degna purché però sia ordinata al suo retto fine come insegna la Chiesa che è sempre quello unitivo congiunto a quello procreativo quindi per esempio è in nome della castità coniugale che nella coppia cristiana deve essere anzitutto bandita ogni forma di contraccezione anche qui si sente dire se si vede leggere in giro queste cose le dico perché non è che faccio io propaganda o voglio fare il polemico chi segue un pochino gli eventi ecclesiali le sente queste cose ci sono spinte da parte di più di qualcuno a rivedere l'umane vite e a mutare la dottrina della Chiesa sulla contraccezione io dico ma per quanto mi riguarda è cosa del tutto impossibile e voglio essere certo come certamente sarà che chi ha il compito di dire le ultime parole definitive nonostante le agitazioni i movimenti di teologi o qualche prete un po' così oppure qualche vescovo un po' così siano poi evidentemente regolate la contraccezione non potrà mai essere sdoganata nella Chiesa Cattolica per nessun motivo mai specialmente dopo che Paolo VI ha parlato chiaramente definendo quegli atti intrinsecamente cattivi e disordinati un atto intrinsecamente cattivo e disordinato buono non ci diventerà mai e non c'è nessuna autorità successiva concili o papi ulteriori che possano andare a riformare su questa materia la sentenza di un pontefice peraltro in perfetta continuità con il magistrato della Chiesa già era intervenuto Pio undicesimo con l'encifia di cui vi parlavo su questa materia è sempre il nome della castità coniugale che come insegna la Chiesa nella Gaudium et Spes per voler citare un documento recente che adesso citerò numero 49 nell'esercizio degli atti coniugali attenzione i coniugi devono comportarsi in modo attenzione qui al linguaggio della Chiesa squisitamente umano quindi la sessualità umana non è la sessualità degli animali non è una cosa perdonatemi bestiale materiale cioè gli uomini si amano anche attraverso quel linguaggio quindi devono imparare a vivere la sessualità vivendola come manifestazione di amore tenero intimo delicato sincero non come mera soddisfazione di un piacere brutale egoistico leggo quello che dice Gaudium et Spes 49 questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio qui capite il linguaggio della Chiesa parla degli atti coniugali ne consego che gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità vedete in casta intimità non in intimità casta intimità tenete sempre presente che nei documenti della Chiesa ogni parola pesa una tonnellata prima di votare una risoluzione questo per gli addetti ai lavori per gli addetti ai lavori cambiano le pose le parole questo va bene questo non va bene quindi dire casta intimità non è dire intimità ma dire casta intimità perché in casta intimità sono sempre onesti e degni compiuti in modo veramente umano favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente nella gioia e la gratitudine degli sposi stessi cioè perché la sessualità coniugale possa contribuire ad accrescere la mutua donazione e ad arricchire la gioia e la gratitudine devono essere compiuti in maniera umana cioè è quello che la chiesa dice anche quando raccomanda di integrare la sessualità utilizzando delle espressioni un po' complicate nell'affettività questo è il compito della castità coniugale perché due esseri umani non si uniscono come due animali cioè sapete come gli animali sono programmati quindi cercano il piacere violento non sapendo che quel piacere è finalizzato dal creatore alla riproduzione ed è per questo che si uniscono soltanto gli animali almeno ordinariamente adesso non non mi cominci a parlare nel commento di youtube ma ci stanno quegli animali quella specie ordinariamente a quello che so gli animali si uniscono quando sono in condizione di poter procreare ecco almeno nella maggior parte dei casi no gli esseri umani possono non farlo e non dovrebbero ok quindi la morale cattolica classica ha approfondito tantissimo il tema della castità coniugane dando anche dei chiari criteri di orientamento e di discernimento sia ai pastori in cura d'anime che ai confessori perché aiutassero i fedeli nel delicato compito di santificare questo aspetto costitutivo della vita sponsale vedete che ora basti riflettere bene sulla parola umana ma unirsi in modo umano che significa per comprendere molte cose senza bisogno di scendere in troppi particolari no gli esseri umani si uniscono per esempio guardandosi negli occhi gli animali no quindi che significherà capite che quando si parla di argomenti scabrosi dobbiamo fare un pochino lo sforzo di far funzionare un pochino il cervello ecco no ecco gli atti coniugali quindi devono essere compiuti dignitosamente umanamente perché anche questo aspetto della vita umana ridento dalla grazia legata al sacramento del matrimonio possa essere indirizzato al fine retto al sinuto di cooperare con Dio alla procreazione che è il compito più nobile degli sposi ma anche di alimentare in modo umano e degno all'affetto coniugale attenzione che i figli di Dio chiudiamo con questa cenno mazza siamo andati oltre il tempo limite non hanno bisogno di nessuna educazione sessuale e io vorrei raccomandare ai genitori di fare molta attenzione a verificare cosa fanno a scuola i programmi con i loro figli su questo argomento ecco i figli di Dio hanno bisogno di educazione all'amore che cosa significa l'amore perché anche questa delicata materia fuoriera spesso di tanto male e dolore come la Madonna ci ha ricordata Fatima è ingente serbatoio di amite per le tianime per la dannazione moltissimi vanno all'inferno e quasi tutti per i peccati della carne disse la Madonna Fatima però tramite la grazia del sacramento del matrimonio e una buona educazione all'amore e quindi l'esercizio della castità anche da parte degli sposi possa sempre concorrere all'edificazione e alla gioia dei conogi a gloria ovviamente di Dio e a scorno del nemico dell'umana salute che si ritroverà con le pallottole spuntate quindi che anziché usare questo strumento come strumento di perdizione come fa con quasi tutti con due sposi casti e santi viene ad essere addirittura un qualche cosa che gli va a fare danni a lui alla sua cattiveria e agli interessi del suo regno bene amici ci aggiorniamo alla prossima puntata siamo andati un po' fuori pazienza Dio vi benedica e la beata vergine sempre vi protegga a presto